Partiamo dalla riete. Riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede. D'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Toro potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividerete intense emozioni. Gemelli. Incontri e contatti sono favoriti e porteranno a ottenere ottimi risultati. Non dimenticate però gli impegni e i progetti precedenti. Qualcuno di voi potrebbe abbandonarsi a un flirt senza impegno e ritrovarsi invece all'improvviso perdutamente innamorato. Cancro. Non fatevi condizionare dagli stati d'animo di un collega. Continuate a sintonizzarvi su un'onda ottimistica. Vi aiuterà a mantenervi equilibrati. Leone. Metteteci più concentrazione ma anche determinazione e tutto tornerà a vostro vantaggio. Fidatevi di più dei collaboratori bravi e seri. Vergine. Persiste la fastidiosa sensazione che chi avete intorno fa l'amico mentre in realtà non lo è e si è avvicinato con secondi fini. Non ascoltate le chiacchiere di chi vorrebbe indurvi a vedere chi amate in modo diverso. Bilancia. C'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire no e quasi quasi vorrebbe approfittarne considerando la vostra titubanza un comodo punto debole. In realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Scorpione. Una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha più esperienza nonostante i vostri cari vi siano vicini. Sagittario. Sensuali e simpatici nei rapporti stabili avrete delle appaganti approvazioni. Manterrete viva la fiamma della passione con intrigante complicità. Andrete al massimo e riuscirete a ottenere ottime prestazioni. Capricorno. Non accetterete oggi le bizze di capi e colleghi e porrete le vostre condizioni. Una persona speciale vi aiuterà a raggiungere quello che volete. Acquario. Le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchie ruggini e immotivate gelosie. Avrete l'occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti. Pesci. Riesaminando il passato vi accorgerete di aver idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti a una data da stabilire.